Benvenuti sul mio canale che si chiama Gino d'Italia. Io sono Gino, sono un insegnante d'italiano. Questo è un canale di lingua italiana per chi vuole imparare la lingua italiana, per chi ama la lingua italiana. E l'Italia è questa qua, nel bene e nel male. Se volete potete visitare la mia pagina Facebook Canzoni Italiane da ricordare, dove potete trovare tutte le canzoni di cui parliamo in questi video di YouTube. La canzone di oggi si chiama Michelle di Claudio Lolli ed è una vecchia canzone del 1972. Claudio Lolli è un cantautore, un cantante autore di Bologna, come i più famosi Francesco Guccini e Lucio Dalla. Parleremo anche di loro nei prossimi video. Qualcuno dice che i testi delle canzoni di Claudio Lolli sono sempre molto tristi. Qualche volta è vero, come in questo caso. Questa canzone racconta di un'amicizia fra due bambini, due bambini che poi diventano ragazzi, ed è una storia di ricordi ed è piena di nostalgia per un tempo che non ritornerà. All'inizio della sua carriera, e questa è una delle prime canzoni che lui scrive, le parole hanno un ruolo più importante della musica. La musica è semplice, essenziale, non è musica banale, ma prende un'importanza maggiore con il continuare della sua carriera. E nel 1976, con l'album Ho visto anche degli Zingheri Felici, album molto famoso, la musica diventa molto molto più interessante. Ma passiamo alla canzone. È un racconto, una storia senza un lieto fine. I personaggi principali sono due, l'autore, l'io della canzone, che chiameremo Claudio, e il suo amico Michel, che è un bambino che è nato in Francia e si è trasferito dopo in Italia, diciamo al tempo della scuola, con la sua famiglia. Quando la storia comincia, i due protagonisti sono bambini. Li vediamo correre e giocare, ma gli anni passano e cominciano i problemi. Tutti i problemi che hanno gli adolescenti, i gusti e i desideri cambiano. E per Michel cambiano più velocemente, cambiano prima. I giochi da bambino non lo interessano veramente più. E le ragazze e il sesso diventano il centro del suo interesse. Per questo Claudio, che è rimasto ancora bambino, trova la cosa difficile da accettare. Non capisce perché Michel sta diventando così. In un'intervista del 1999, Claudio Lolli racconta che si tratta di una storia vera, autobiografica, e che lui veramente era innamorato di questo bambino bellissimo che poi ha perso di vista. Perdere di vista qualcuno. La storia si conclude con la morte della mara di Michel e la sua partenza, il suo ritorno in Francia. Claudio si sente solo quando l'amico parte e ha paura. Sa benissimo che qualcosa è finito per sempre e che probabilmente non lo rivedrà più. Come tutte le canzoni che hanno un testo interessante, l'autore riesce a dire in poche parole quello che in qualche romanzo troviamo descritto in decine e decine di pagine. Quindi una scrittura molto interessante, anche se l'autore, in questo caso Claudio Lolli, ha soltanto 22 anni e di solito si occupa di temi politici e sociali, non personali, intimi, come questo. È una canzone, dicevamo, piena di nostalgia per il tempo passato, per una bella amicizia che è finita. È molto importante la frase in cui Claudio Lolli descrive il banco di scuola che ascoltò tutte le risate di due bambini che vivevano in un sogno che non si ripeterà. Un tema vecchio come il mondo, ma sempre attuale. Il tempo che passa e si porta via storie e persone. Adesso andiamo ad analizzare il testo della canzone, le parole della canzone, per vedere cosa possiamo prendere, cosa possiamo rubare, per imparare qualcosa di nuovo. Se guardiamo i verbi, sono quasi tutti al passato, soprattutto imperfetto, ero, avevo, volevo e passato remoto. Non c'è nessun passato prossimo, che è il tempo del passato che usiamo di più nella lingua parlata. Il passato remoto e il passato prossimo fanno parte di un aspetto del verbo che si chiama perfetto. Quindi in un racconto troverete il perfetto che sarà realizzato o con il passato remoto o con il passato prossimo. Noi a scuola abbiamo imparato che non dobbiamo mescolare nella stessa storia il passato remoto e il passato prossimo. Quindi uno di questi due più l'imperfetto. Quindi passato remoto, mangiai, andai, chiusi, dissi, risposi e passato prossimo. Ho comprato, ho mangiato, sono andato, sono andata. Se sono una donna, l'imperfetto invece è ero, avevo, mangiavo, andavo, eccetera, eccetera. Tutti questi verbi li troverete in un racconto che parla del passato come questo nostro. Il passato remoto che è poco usato nella lingua parlata, almeno in Toscana e nell'Italia del nord. Nel sud invece è più usato il passato remoto. Quindi andai, mangiai, chiesi, risposi. Abbiamo detto che è difficile da imparare, ma è importante da riconoscere. Se lo sentite, se lo leggete, è importante capire che è un passato remoto. Quindi non una conoscenza attiva. Parlare al passato remoto probabilmente per molti di voi non è importante, ma una conoscenza passiva. Quindi riconoscere. Questo è una forma del passato remoto. Se voi vedete andò, lui andò, he went, è una forma del passato remoto. Nella canzone in questione, Michelle, troviamo cinque verbi al passato remoto. Accompagnare, ascoltare, dovere, fare appugni e morire. Quattro di questi verbi sono regolari e soltanto uno, il verbo fare, è irregolare. Abbiamo due verbi della prima coniugazione, are, sono regolari, un verbo della prima coniugazione irregolare, ma è importante il verbo fare, e un verbo della seconda coniugazione ere. Dovere è un verbo della terza coniugazione, ire, morire. Troverete un link con tutti i verbi regolari al passato remoto e alcuni verbi irregolari. Bene, una veloce occhiata, dare un'occhiata, guardare velocemente le espressioni idiomatiche che ci possono servire, che vogliamo ripetere o imparare. Ne prenderemo soltanto una per non far diventare il video troppo troppo lungo, ed è prendere in giro. Prendere in giro qualcuno. Make fun out of somebody. Quindi io rido di qualcuno per qualcosa di strano che questa persona ha, lo prendo in giro. L'espressione prendere in giro è una costruzione diretta, quindi prendo in giro qualcuno, prendo in giro Paolo, prendo in giro mia sorella, oppure qualcuno mi, pronome diretto, prende in giro perché parlo male l'inglese, ok? Tutti mi prendevano in giro perché avevo gli occhiali. Maria è triste perché tutti la prendono in giro. Qui si vede bene che è un pronome diretto, la. Mi potrebbe essere anche, se voi non lo sapete, riflessivo o indiretto, ma la è sicuramente diretto. E tu? Prendi in giro qualcuno? Io posso prendere in giro qualcuno perché è, per esempio, tirchio, non vuole spendere soldi, posso prenderlo in giro. Quindi perché o per, come in questo caso Claudio ci dice ti prendevo in giro, ti ricordi come ti prendevo in giro per la tua r moscia, cioè un difetto di pronuncia, difetto per gli italiani, per i francesi è normale, la r strana per noi, anche i tedeschi qualche volta hanno difficoltà a imitare la r italiana e gli italiani a imitare la r francese, tedesca, inglese, eccetera. Quindi la gente prende in giro qualcuno per moltissime ragioni. soprattutto i bambini prendono in giro altri bambini qualche volta in modo non simpatico. Possiamo usare l'imperfetto. Ci sono molti motivi per prendere in giro qualcuno. Qualche volta possiamo prendere un po' in giro qualcuno e può essere una cosa simpatica, ma se diventa continuo il prendere in giro può diventare addirittura mobbing. Benissimo, grazie per aver ascoltato. Se il video vi è piaciuto, grazie, like. Se il video vi è piaciuto molto molto iscrivetevi al canale per non perdere i video che faremo due volte alla settimana per adesso. Quindi canzoni, storie, lezioni di italiano per principianti e sotto, qui sotto, troverete anche un link per fare un esercizio di comprensione e per avere le forme dei verbi al passato remoto regolari e alcuni verbi irregolari. Troverete sempre nuovi esercizi, alcuni anche da fare con il telefonino, quindi non solo a Google Docs o Google Forms, ma anche cose da fare quasi come un gioco. Vi ricordo la pagina Canzoni Italiani da Ricordare su Facebook e arrivederci alla prossima volta!